Adagiata sulla costa dell'omonimo monte, immersa nel verde dei suoi faggeti, Carpegna è il centro di quel monte feltro aspro e gentile che fu terra di santi e condottieri, di cupe leggende e di storia. Oggi, tra i tanti elementi che la caratterizzano quale luogo di eccellenze del settore gastronomico e alimentare, c'è il prosciutto di Carpegna DOP, protagonista di questa puntata che presenta il violino del monte feltro, parte integrante di una rete turistico commerciale finalizzata a valorizzare la qualità della vita di questo particolare territorio. All'interno della festa del prosciutto di Carpegna abbiamo seguito con le nostre telecamere il cavaliere, narratore del gusto, enogastronomo Giuseppe Cristini e i suoi illustri ospiti, in un tour che a partire dai luoghi che hanno visto Marco Pantani, il pirata, preparare le sue gare migliori, ci ha condotti fino al ristorante Silvana, dove i dirigenti dell'azienda Fratelli Beretta hanno comunicato ufficialmente importantissime novità. Il Carpegna mi basta, amava rispondere Marco Pantani a chi gli chiedeva come mai non scegliesse montagne più alte per allenarsi e terminava spesso il suo allenamento con un panino e prosciutto. La mamma del pirata, dopo la deposizione di un mazzo di fiori al monumento dedicato a Marco, al Cippo, lo ha ricordato così. Venire qua su è sempre un ricordo, infatti anche lungo la strada dicevo, pensate quanta strada ha fatto per venire qua su, però a lui gli piacevano le montagne, lui abitava al mare ma era innamorato delle montagne e quelle lunghe, quelle più difficili. Qui sono delle montagne un po' toste e infatti diceva che non c'era bisogno che lui andasse in altri posti quanto doveva fare le montagne, andare a provare là, diceva che il Carpegna gli bastava. Il Carpegna mi basta è diventato un punto di riferimento per tanti ciclisti, per tanti amanti del territorio. Abbiamo cercato di fare investimenti anche in collaborazione con la regione, con gli amministratori locali, con l'amministrazione comunale e riassegnare un'identità anche da un punto di vista di fruibilità degli spazi. Sono dei passi importanti, insieme alla mamma ci ritroviamo qua oggi, insieme a questa bella festa organizzata in collaborazione con Carpegna Prosciutti e l'amministrazione comunale ed è questo il target che vogliamo continuare a dare perché su questo target sappiamo che siamo vincenti. Di recente la fratelli Beretta, nota azienda Brianzola che produce salumi da oltre 200 anni, ha rilevato il marchio Prosciutto di Carpegna DOP. Undici i maestri in urcini che si dedicano quotidianamente alla produzione di una rara specialità, con la passione che solo la consapevolezza di dare vita a un prodotto unico può infondere. Lavorato e stagionato tra le colline del Monte Feltro, dove l'aria salmastra dell'Adriatico lo accarezza per 14 mesi. Stuccato con farina, sugna, paprika e pepe, ne risultano fette sorprendentemente soffici, dal colore leggermente ambrato e dalle note aromatiche. Un prodotto che porta in sé tutta la nobile storia del territorio e le pregevoli caratteristiche climatiche. Il territorio è parte integrante della qualità del Prosciutto di Carpegna, anzi direi è quello che determina l'unicità perché quando il territorio è bello l'aria è sicuramente pulita e quindi il prodotto viene bene. Questa storia va raccontata, va raccontata bene su tutto quello che noi riusciamo come azienda, come consorzio e anche parlandone nelle fiere, dobbiamo essere bravi a raccontarla perché veramente qui è un territorio unico e i prodotti sono unici. Dobbiamo scrivere bene, dobbiamo essere aiutati anche da chi la storia la conosce bene, ma l'obiettivo è quello, raccontare bene il territorio di Carpegna. Gli americani leggono i prodotti di nicchia, vogliono sapere la storia. Noi cercheremo di arrivare come consorzio e come azienda nel mese di dicembre con delle vaschette perché il mercato è quello che vuole, il mercato mondiale è fatto di preconfezionato. Quindi per raccontare bene al consumatore, spiegare che c'è un prosciutto unico, che ha una storia unica, un sapore unico, dobbiamo raccontarle bene. Io sono molto fiducioso perché negli assaggi fatti nelle fiere recenti il successo è stato elevato e nessuno ha mai messo in dubbio che è un prodotto di qualità, è un prodotto di qualità che loro in questo momento non riescono a trovare. È un territorio che ci viene invidiato, forse non siamo neanche noi consapevoli della potenzialità che abbiamo, quindi sta in noi come amministratori valorizzarlo e portarlo a conoscenza non solo nei confini della regione ma nell'Italia perché veramente merita questo territorio. L'ampliamento dello stabilimento di produzione già avviato, grazie al raddoppio della quantità del prodotto, consentirà la crescita dell'esportazione, raggiungendo dopo il mercato europeo e quello giapponese a breve anche il mercato americano. Stiamo riportando avanti le attività commerciali della passata gestione. Questo prodotto è ritornato a pieno regime e si sta sviluppando in maniera molto veloce nei paesi asiatici come il Giappone e probabilmente mi occuperò personalmente entro il 2020 di portarlo anche in Cina. Invece confidiamo nel fatto che sulle tavole degli americani questo Natale potranno trovare il prosciutto di Carpegna D.O.P. Ampliamento dell'azienda. Abbiamo ottenuto dei fondi tramite un PSR della regione Marche che ringraziamo per questo aiuto economico non indifferente dove ci sta dando la possibilità di ampliare la produzione, di raddoppiarla. Passeremo da 1.800 prosciutti salati la settimana a 3.000 migliorando anche l'efficientamento energetico dello stabilimento. C'è stato un aumento in doppia cifra delle vendite del prosciutto perché abbiamo ridistribuito su tutta la penisola italiana il prodotto e abbiamo iniziato anche in una decina di paesi della comunità europea a distribuirlo. Il 2017 sicuramente i volumi aumenteranno, c'è una grossa richiesta da parte di tutti i clienti e soprattutto una grossa richiesta di visitare questo stabilimento che è unico nel suo genere. La qualità di un prodotto dalle caratteristiche uniche come il prosciutto di Carpegna può essere narrata al meglio solo da un professionista capace e attento come Giuseppe Cristini che riesce a trasmettere le sensazioni e le emozioni esaltandone l'intensità. Questo è il violino del Montefeltro, il gioiello delle marche e naturalmente secondo me è anche un brillante del made in Italy nel mondo a tavola. Qui c'è una grande valenza sensoriale del prodotto, non è solo la materia prima, sono elementi di maturazione e sono anche elementi di profumi, di gusti ma anche di colori. Una vena rosata con il grasso striato che rende freschezza, rende dolcezza ma rende anche grande saporosità ma invadente. In bocca il prosciutto si scioglie e avvolge tutte le papille gustative, la masticazione è lunghissima e franca e quasi appaga perché nelle trasformazioni enzimatiche ma soprattutto anche nel benessere dell'animale piuttosto tenuto libero i grassi non virano su note sature e quindi negative ma quelle insature o polinsature che danno benessere ma soprattutto danno grande piacevolezza per cui ne puoi mangiare anche due fette in più e magari altre due fette con del pane sottile non troppo alto ti possono saziare prima la mente e il cuore e infine perché no anche il palato. Oggi ci ha presentato un abbinamento curioso e devo dire anche in qualche modo sperimentale prosciutto di Kerpegna, gambero di fiume. È stata un po' una provocazione perché comunque magari nella cucina di mare molte volte si usa della pancetta o del lardo. Noi essendo nel nostro territorio abbiamo preferito attingere il nostro paniere perciò gamberi di fiume che qui in collina e in montagna si trovano, prosciutto perché è una delle nostre bandiere dei prodotti del nostro territorio e poi dopo patate e tartufo nero. Abbiamo osato a metterli tutti assieme con un risultato sia un pochettino azzardato ma secondo me alla fine di grande complicità perché il gambero di fiume ha bisogno di sapidità per il suo prosciutto gliela donava e poi dopo i tartufi e le patate non hanno bisogno di essere presentati perché loro sono complici in ogni pietanza. Il prosciutto di Kerpegna pur essendo un prodotto del centro Italia è però un prodotto che viene fatto in una zona assolutamente limitata, molto molto limitata, è una zona di montagna però a parte questo viene fatto in una zona circoscritta e quindi è un valore aggiunto nell'espressione del territorio perché il territorio non è solo morfologia, non è solo diciamo cultura storica ma è anche cultura sensoriale cioè l'abitudine se si vuole per così dire nei secoli di un certo tipo di utilizzo in cucina di ingredienti e quindi di abituare o sostanzialmente di avere una personalità gustativa che è quasi genetica per così dire dentro di noi. La regione Marche può e deve essere accanto a chi investe sul territorio e sui nostri prodotti d'eccellenza e la fratelli Beretta con il prosciutto di Kerpegna DOP ne è l'esempio più alto. Legare un prodotto di altissima qualità, una DOP, una denominazione di origine protetta come il prosciutto di Kerpegna, legarlo al territorio è una grande occasione di promozione turistica per Kerpegna, per il territorio ma per l'intera regione perché l'enogastronomia sappiamo bene che è una nicchia di mercato ma in progressiva crescita, i dati ci confermano questo e quindi legare i prodotti enogastronomici al turismo, all'identità del territorio, alle Marche sicuramente è un'opportunità di sviluppo economico su cui la regione vuole concentrarsi. Sicuramente l'azienda che promuove il prosciutto di Kerpegna non ha bisogno della regione ma sicuramente ha bisogno della regione quando parliamo della regione, del territorio, delle opportunità che questa nostra regione è in grado di offrire. Quindi questo connubio comune di Kerpegna, territorio, regione Marche sono sicuramente una bella opportunità, una grande opportunità di promozione per il prodotto ma per il territorio dal punto di vista economico e turistico.